Ciao, in questa lezione vorrei parlarvi della pennata ritmica in quarti e ottavi combinati. Proviamo quindi a suonare questa figurazione ritmica con un metronoma a 72 bpm. In termini di pennate in ottavi dobbiamo quindi omettere la pennata numero 2, la pennata numero 4 ovvero le pennate che corrispondono alle varie del primo movimento e alle varie del quarto movimento. Grazie per la visione! Grazie! Grazie!